E' stato presentato questa mattina nel comando provinciale di Teramo il calendario 2020 dei Carabinieri, un appuntamento oramai storico per un oggetto diventato di culto. Il calendario dei Carabinieri è giunto all'ottantasettesima edizione e quest'anno racconta alcuni fatti realmente accaduti in Italia, arricchiti da una scrittrice di livello mondiale, Margaret Mazzantini, che racconta e colora quegli eventi con sentimenti ed emozioni visti dalla parte del Carabiniere inviato a effettuare l'intervento. Ogni mese è legata ad un episodio differente e ognuno racconta il pathos e l'adrenalina della vita quotidiana di un Carabiniere. Quella del 2020 è l'ottantasettesima edizione del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri, la prima edizione risale al 1928. Quella di quest'anno è un'edizione narrativa da leggere. Ad ogni mese è associato un racconto della celeberrima scrittrice Margaret Mazzantini che descrive il quotidiano del Carabiniere. Parliamo in servizio e fuori servizio, si passa dall'intervento per furto in abitazione alla missione all'estero, all'intervento in caso di calamità. La scrittrice tratteggia l'animo del Carabiniere, quella che è la sua missione, che è la tutela delle fasce più vulnerabili e deboli della società. Questi brevi racconti sono magnificamente illustrati dall'artista Mimmo Paladino, che è celebre esponente della transavanguardia, noto a livello internazionale, che ha realizzato anche un paginone centrale sul carosello equestre dei Carabinieri. Ci piace pensare che questo documento sarà presente non solo nelle case, ma anche negli esercizi commerciali, nei luoghi di aggregazione della popolazione e che manifesta una particolare vicinanza all'arma.